E' un risultato che per come si era messa è da essere tra virgolette contento, però secondo me c'è tanto la maglia perché al primo tempo abbiamo creato due palle importanti con buona storia Marco Arbella e non sono riusciti a concludere, l'unico nostro errore a livello difensivo abbiamo preso gol al 45esimo quindi deve essere parzialmente contenti perché oggi era uno scontro diretto, sapevamo dell'importanza, ripeto per come è arrivato c'è da sorridere però per potersi salvare dobbiamo fare ben altro, la strada è quella giusta perché anche oggi secondo me non abbiamo mai mollato, si vede l'attaccamento e tutto, però bisogna fare brutti Però, insomma, io andrei a dire, ma altre partite si è abbastata una sconfitta questa Io vedrai anche l'episodio alla fine No, 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 da quel punto di vista là, come ti dicevo prima, sì, c'è da essere parzialmente contenti perché se fosse successo, non so, un mesetto fa, due mesi fa si perdevano però adesso, soprattutto in casa, dobbiamo cercare di fare punti, c'è da essere, come ti ripeto, ripetitivo, però parzialmente contenti perché oggi, secondo me, la squadra ha dato tutto e ha commesso degli errori, come il primo gol, è stato un errore a livello difensivo perché si poteva rimediare non è stato fatto, però poi sono stati bravi e fiduciosi nell'anno collare Grazie a te per la visione Grazie a te per la visione